Ma potrò mai presentarmi la domenica mattina qui da solo al nostro consueto appuntamento con il mio grande amico BJ? No, però lui non c'è. Anzi, mi ha mandato questo messaggio, guardiamolo un po'. Sperduto è il mezzo al mare, ma l'appuntamento con Giovanni Albanese non può mancare, se no non è domenica di calciomercato con il nostro profi Giovanni Albanese. Allora Giovanni, sono lontano ma come dire, le domande non mancano mai. Come dire, nella pentola di Giovanni Albanese qualcosa bolle sempre. Attenzione Giovanni, vogliamo sapere tutto da Cancelo, nome tornato caldo, McKennie Sirene, States, chiesa che fine ha fatto e poi parliamoci chiaro. Vogliamo sapere, Copi Manersi, quando arriverà? Giovanni, ti mando un grosso abbraccio e saluto, ma soprattutto a tutti i tuoi followers. Fino alla fine, forza Juventus e come dico sempre, possa benedica a tutti i picciotti. Ciao! E insomma, allora buona domenica anche al nostro caro BJ. Non so dove andrà a finire, non so dove andrà a sbarcare, anche se un po' qualche idea l'avrei. Considerato che il nostro caro BJ è nato e cresciuto nella stessa terra in cui sono nato e cresciuto anch'io, quindi probabilmente ve lo ritroverete in Sicilia. Io faccio il mio dovere, dovevo rispondere a un po' di domande. Tra l'altro non ho dimenticato alle tante domande che mi avete lasciato qualche giorno fa sul mio canale Instagram. Facciamo così nei prossimi contenuti, risponderò a tutte le domande che mi avete fatto rispetto ai temi che non tratterò in questo contenuto, anche perché BJ mi ha lasciato un po' di carne al fuoco. Dobbiamo partire allora da Cancelo. Un nome caldo, caldissimo, che in qualche modo ha ritrovato l'entusiasmo dei tifosi bianconeri. Qui devo farvi subito una domanda, perché la mia sensazione è che l'entusiasmo che c'è attorno al nome di Cancelo non sia tanto per i ricordi della stagione 2018-19 che ha giocato con la maglia della Juventus, quanto il dispiacere vissuto dai tifosi bianconeri nell'estate 2019, quando il giocatore andò via per motivi legati al bilancio, andò al Manchester City. Almeno questa è la mia personale sensazione, perché è vero Cancelo fece tante cose positive nel corso della sua stagione alla Juventus, però obiettivamente ricordo anche ampie parentesi buie del calciatore portoghese, che è stato proposto dal suo agente alla Juventus, Jorgen Mendes, lo stesso che portò a Torino Cristiano Ronaldo. È stato proposto alla Juventus come è stato proposto a tantissimi altri club. La Juventus semplicemente non ha chiuso la porta perché ritiene nel suo mercato estivo dovrà fare un esterno con quelle caratteristiche e l'identikit di Cancelo si avvicina molto a quello che cercherà la Juventus nel corso di questo mercato, considerato che all'opposto di Cambiaso, sul quale punta con grande convinzione, vuole proporre un giocatore che può portare all'interno del gruppo esperienza non solo per il campionato italiano, ma evidentemente anche sulle competizioni europee. Cancelo giocherebbe bene nella Juve di Tiago Motta? Sì, probabilmente sì, anche perché ha dimestichezza a giocare anche dentro il campo, a diventare quasi una mezzala. A me risulta però, e ve l'ho già raccontato, che nella scala di gradimento di Tiago Motta, Cancelo non sia proprio in cima alla lista e questo comunque è un qualcosa di cui dobbiamo tener conto. Tra l'altro la Juventus per prendere Cancelo dovrebbe comunque chiedere al Manchester City di partecipare a buona parte dell'ingaggio del calciatore. Tra l'altro forse Cancelo dovrebbe anche ridursi lo stipendio, perché in questo momento è un'ipotesi da tenere viva, ma non è così in fase avanzata, anzi dobbiamo dire non c'è neanche una trattativa tra Juve e Manchester City per quanto riguarda Cancelo. Semplicemente perché oggi siamo nella fase in cui l'enturasio del calciatore lo sta proponendo a diversi club. Tra l'altro è stato anche accostato al Barcellona, mi risulta che il Barcellona non lo tenga in considerazione per questa estate di mercato. Quando probabilmente il Benfica è il primo club della lista delle destinazioni possibili, almeno per quelle che sono le condizioni prospettate al calciatore, la Juve non chiude la porta perché un laterale dovrà farlo, ma lo farà ad agosto nel momento in cui ci saranno da valutare le occasioni. Quindi Cancelo è una possibilità, sì, non è in cima alla lista di gradimento di Tiago Motta, secondo me alla fine si proverà anche a valutare delle altre possibilità. Io credo si debba fare attenzione anche a nomi importanti che il mercato di agosto potrà proporre. Tra le occasioni, chi in miccio del Bayern Monaco, sì, costa tanto, guadagna tanto, sì, però attenzione, perché sono tutti i profili che la Juventus può andare a cogliere nel mercato delle opportunità, ovviamente risolvendo un problema ad altri top club che hanno questi giocatori in esubero e dunque in uscita. Questi problemi li hanno gli altri club, li ha soprattutto la Juventus in casa, perché poi mi leggo subito alla domanda di Chiesa. Chiesa è un giocatore che non rientra nei piani della Juventus e che il club bianconero ha necessità di vendere prima possibile, perché avendo il contratto in scadenza al 2025, in assenza del rinnovo, la Juventus, più si va avanti, meno potere contrattuale avrà in sede di trattativa. Dal momento che stiamo parlando di un giocatore che, insomma, a gennaio potrebbe anche firmare con un altro club senza dover passare dalla Juventus. Quindi è interesse della Juve adesso forzare i tempi, chiudere prima possibile un accordo per Federico Chiesa, perché è chiaro che lo stesso gioco che facciamo su nomi importanti per quest'estate juventina, è lo stesso gioco che fa la Juve, cioè quello di aspettare agosto affinché i club che detengono il cartellino di questi giocatori possano poi avere necessità di accederli a condizioni migliori. La stessa situazione però la vive la Juventus con Federico Chiesa. Con Federico Chiesa ma anche con altri calciatori che hanno scadenza al 2025, uno di questi è McKennie, ma su McKennie ci arriveremo. Le novità su Chiesa sono queste. In questo momento c'è una calendarizzazione pianificata tra il giocatore e il suo entourage. Il suo entourage fino a quando il calciatore non dovrà rientrare alla continassa per riprendere le attività per la nuova stagione, resterà alla ricerca di soluzioni interessanti all'estero. Ma siamo già nella fase in cui Ramadani, il suo agente, sta facendo una prima cernita affinché possa capire se in effetti ci sono delle traiettorie credibili per Federico Chiesa nel mercato europeo. Si era parlato di Bayern Monaco, si è parlato anche di club inglesi, soprattutto i due club di Manchester che sarebbero anche molto graditi a Federico Chiesa. Al momento non ci sono trattative aperte, non ci sono sondaggi che sono andati avanti negli approfondimenti, ci sono solo ed esclusivamente degli abbocchiamenti con diversi club e intermediari. Però siamo nella fase in cui Ramadani sta facendo questa cernita all'estero affinché poi possa approcciarsi meglio con le ipotesi italiane che mettono Chiesa di fronte alla scelta di dover fare un compromesso nel caso del Napoli. Per esempio il compromesso è quello di non giocare le coppe per il secondo anno consecutivo. Un'ipotesi che il giocatore vorrebbe lasciare per ultima. L'altra possibilità, la Roma. Insomma, sì, lì si potrebbe un po' spingere sulla centralità che il calciatore può andarsi a ritagliare in una piazza molto calda, anche se in questo momento nelle dinamiche del mercato giallorosso Chiesa non è una vera e propria priorità, anzi. E quindi queste sono un po' le situazioni attorno a Federico Chiesa. La Juventus, ripeto, ha necessità adesso di forzare i tempi d'uscita. I motivi per cui Chiesa non rientra nei piani della Juventus sono ormai abbastanza chiari. Tiago Motta lo ritiene unsacrificabile perché non gli può garantire la centralità che il calciatore pretende la Juve non lo trattiene senza rinnovo del contratto anche perché rischia di perderlo a zero. Siccome su Chiesa ha investito in totale i 60 milioni tra riscatto, bonus e prestito obiettivamente la Juventus adesso ha la necessità di ottimizzare più possibile la cessione dell'attaccante. Da capire quello che succederà nelle prossime due settimane. Secondo me la prossima settimana avremo già un indirizzo più chiaro sulle traiettorie da escludere all'estero perché adesso bisogna giocare a esclusione affinché in questa cernita possano emergere poi le eventuali possibilità realistiche all'estero. In assenza di traiettorie vere fuori dall'Italia è chiaro che Chiesa poi dovrà fare un ragionamento al suo interno e accontentarsi tra virgolette di quello che il mercato gli offrirà nel campionato italiano dove però obiettivamente potrebbe avere anche dei benefici rispetto a queste scelte. Per quanto riguarda Chiesa la situazione è questa? Per quanto riguarda Chiesa vi parlavo di McKennie un giocatore che la Juventus ritiene in uscita e che non ha minimamente intenzione di reintegrare in organico. Ecco se a differenza di Chiesa che al suo rientro alla Continassa comunque nel caso in cui non avrà trovato una collocazione sarà a disposizione di Tiago Motta e lavorerà con la Rosa agli ordini di Tiago Motta per quanto riguarda McKennie c'è la concreta sensazione che l'americano possa finire direttamente fuori rosa ad allenarsi con gli esuberi in attesa di una nuova collocazione. È una situazione tutta in divenire quella del centrocampista texano che ha rimbalzato la possibilità di andare all'Aston Villa sparando alto sull'ingaggio con quell'ingaggio lì che chiede ovvero 5 milioni netti quindi obiettivamente si fatica a trovare delle traiettorie nel calcio europeo non tanto perché in giro per l'Europa non paghino stipendi alti ma dobbiamo sempre renderci conto poi delle caratteristiche dei profili dei giocatori. McKennie è un giocatore che per le sue qualità può avere un mercato di medio-bassa classifica in Premier League e credo sarebbe stato lusso per lui andare all'Aston Villa così come credo le richieste che avanza possano far breccia al massimo su pochissimi club in Spagna al momento non ci sono traiettorie in Turchia qualcosina può esserci ma lui l'anno scorso già aveva rifiutato le proposte turche forse qualcosina in Germania laddove il giocatore è già ben conosciuto considerato che la Juve lo prese dallo Schalke 04 però insomma è tutto in divenire con delle difficoltà palesi sulla collocazione del calciatore dopodiché vi ho raccontato già questa suggestione americana questo interesse dell'Inter Miami che potrebbe andarlo a configurarlo all'interno della propria rosa dandogli la possibilità di diventare un giocatore centrale per lo sviluppo del calcio americano che adesso vuole compiere ancora un altro salto di qualità all'Inter Miami giocherebbe con Messi, con Busquet cioè con fuoriclasse che lo metterebbero nelle condizioni nei prossimi anni di diventare davvero l'icona del calcio americano e la stella della nazionale statunitense in cui ha già un ruolo di rilievo sono tutte situazioni che dovremo seguire nelle prossime settimane anche qui il giocatore per adesso è in vacanza avendo giocato la Copa America quando rientrerà se non avrà trovato una collocazione lo ripeto McKennie verosimilmente andrà fuori rosa per quanto riguarda invece Cop Miners io credo la prossima settimana sarà il momento in cui la Juventus andrà ad aprire la trattativa in linea ufficiale con l'Atalanta che è già entrata nell'ordine di cedere il centrocampista olandese che vi ho già raccontato ha scelto la Juventus l'ha fatto presente al suo club ritenendo la Juventus la tappa più giusta per questo momento della sua carriera l'Atalanta nel frattempo ha già individuato sul mercato il sostituto di Cop Miners era arrivato anche Zaniolo insomma ha già ridisegnato la fase offensiva della formazione di Gasperini per Cop Miners però l'Atalanta chiede 60 milioni come detto la Juve avanza una prima offerta da 40-45 la sensazione è che comunque l'operazione sarà chiusa attorno ai 50 milioni con una parte fissa sicuramente probabilmente con una parte variabile e probabilmente con l'inserimento di qualche contropartita tecnica la contropartita tecnica potrebbe non per forza essere quella rappresentata da un giovane ma magari un giocatore con esperienza europea che possa tornare utile a Gasperini nello sviluppo della stagione prossima e in questo senso vi segnalo la candidatura di Rugani che qualche settimana fa aveva rinnovato con la Juventus ma già è in uscita perché non rientra nei piani di Tiago Motta avrebbe un valore attorno ai 10 milioni potrebbe mettere a disposizione di Gasperini la sua esperienza a livello europeo ed è comunque un giocatore che obiettivamente può diventare di riferimento ancora di più in attesa del rientro di Scalvini che purtroppo ne avrà ancora per un po' per recuperare dall'infortunio che gli ha negato la possibilità di partecipare all'europeo da verificare per quanto riguarda Copminers se i tempi della trattativa saranno ridotti o meno da cosa dipende? beh, se l'Atalanta mostrerà subito una disponibilità a venire incontro alle offerte della Juventus c'è la possibilità che si andrà a chiudere subito l'intesa è raggiungibile in poco tempo e a quel punto Cristiano Giuntoli consegnerà a Tiago Motta i tre che ha individuato per potenziare il centrocampo ne ha già consegnati due Douglas Luiz e Turam deve chiudere il pacchetto mediano con Copminers se invece l'Atalanta resterà rigida sulla propria posizione di richiesta beh, a quel punto c'è la possibilità che i tempi si possano dilatare un po' e che l'operazione Copminers possa poi essere ripresa più avanti magari ad agosto al rientro dalla settimana che la Juventus trascorrerà a Norimberga dal 20 al 26 tra l'altro a Norimberga il 26 ci sarà la prima uscita ufficiale della nuova Juventus di Tiago Motta con una prima idea di quella che potrebbe essere la squadra per il nuovo ciclo o bianco e nero tra l'altro sarò lì al seguito della squadra e quindi avremo anche la possibilità di vivere insieme di confrontarci sulle prime sensazioni a contatto con il campo e di allenamento e in partita in occasione di Norimberga a Juventus credo di avervi raccontato un po' tutto lasciatemi comunque altre domande nei commenti rispetto ai dubbi che ci sono e rispetto ai temi che bisogna affrontare come detto nei prossimi contenuti risponderò a tutta una serie di domande che mi avete posto durante la settimana e alle quali proverò insomma a dare tutte le risposte del caso prima di salutarvi e augurarvi una buona domenica come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale giù tasto iscriviti e anche di attivare la campanella delle notifiche grazie a tutti grazie a tutti